Grazie Guido, io cercherò di rispettare i tempi. Porto il saluto di tutti i militanti della provincia di Lodi a Paolo Grimoldi, soprattutto gli porto gli auguri di fare un buon lavoro come peraltro ha già iniziato a fare da quando è commissario. Io mi limito a riprendere un'affermazione che ha già fatto il commissario di Cremona, cioè un appello all'unità della base. Due anni fa a Bergamo, in un congresso nazionale, sicuramente più movimentato di questo, è iniziato un nuovo periodo con l'elezione di Matteo Salvini a segretario nazionale. Io invito tutti quanti i militanti che sono qua presenti, anche quelli che sono nelle sezioni, a portare le loro tesi e le loro discussioni all'interno delle sedi opportune, dei congressi, dei direttivi nazionali e dei direttivi provinciali. Al di fuori di queste sedi io invito veramente tutti i militanti a lavorare come soldati al seguito di Matteo Salvini e di Paolo Grimoldi, cercando di evitare il più possibile di fare polemiche e di continuare a parlare al di fuori delle sedi opportune. È un momento storico importantissimo, è un momento storico in cui bisogna essere assolutamente uniti. Io sono assolutamente convinto che chi abbiamo eletto segretario federale che eleggeremo oggi segretario nazionale ci porteranno sicuramente nella strada della libertà del nord. Bisogna avere un po' di fiducia e soprattutto bisogna essere dei soldati. Non dividiamoci sul territorio, parliamo di meno il più possibile e cerchiamo di lavorare di più. Grazie.